Ciao a tutti amici di Apple Review Oggi andremo a recensire la beta di Mac OSX Lion 10.7 quindi la versione pubblicata dall'Apple per gli sviluppatori Vediamo subito quelle che sono le novità In primis abbiamo una modifica dell'interfaccia possiamo notarlo dal bar in alto come cambia leggermente il colore blu Un'altra novità riguarda Spotlight, quindi migliorato e viene un attimino più allargata la lunghezza della barra di ricerca Un'altra novità riguarda sicuramente il Launchpad quindi la possibilità di vedere le applicazioni proprio come su iOS quindi ad esempio anche la possibilità di creare delle vere e proprie cartelle da poter poi rinominare e quindi anche gestire le nostre applicazioni ad esempio in più pagine possiamo montarlo anche dai pallini qua in basso proprio in stile iOS Un'altra novità riguarda sicuramente i mail migliorato la software con la possibilità di gestire mail in varie categorie modificare quindi un attimino anche migliorati esempio i contrassegni piuttosto che i nuovi messaggi e un attimino anche l'interfaccia diciamo che qua ha resa più semplice e più gestibile come vedete qua c'è questa barra con tutte le nostre mail abbiamo anche una rubrica indirizzi migliorata sempre più in stile iOS e molto più carina come notate anche gestibile proprio come una vera e propria agenda una modifica riguarda anche iCal anche qua migliorata un po' la grafica è resa anche più carina una cosa che è un po' ad esempio nascosta riguarda la possibilità di allargare le pagine come notate mentre su la versione precedente di Mac OS X c'erano dei trattini che ci indicavano poter allargare la pagina con l'Ion questi vengono nascosti iTunes è rimasto completamente invariato così come Photoboot se non qualche piccola modifica grafica ma andiamo soprattutto a parlare di preferenze di sistema grandi novità qui per quanto riguarda il doc come avete sicuramente notato non sono più presenti quegli indicatori luminosi per far vedere se l'applicazione è stata aperta ma ovviamente sono attivabili dalle impostazioni del doc quindi notate ora che sono presenti appunto questi indicatori luminosi possiamo anche qua ovviamente regolare l'ingrandimento eccetera quindi come su Snow Leopard Exposé e Spaces non sono cambiati ma c'è una grande novità ovvero facendo un doppio tap sul Magic Mouse o sul Magic Trackpad varia un attimino ma comunque sempre usando le multitouch gestures possiamo andare ad aprire come vedete scusate tutte le applicazioni che abbiamo aperto e le varie pagine quindi le nostre varie scrivanie che sono qua in alto e tutte le applicazioni che sono state aperte al momento per poter gestire in maniera più semplice un'altra novità riguarda sicuramente l'account internet in quanto possiamo ad esempio gestire ed aggiungere più account di vario tipo da poter gestire insieme quindi da condividerle con altre applicazioni cosa molto carina per poter gestire più facilmente insieme ad esempio mail, ikl e la rubrica indirizzi parliamo ora però del Finder il Finder presenta una modifica molto grande per quanto riguarda come vedete le varie icone quindi sono state rese diciamo di un unico colore quindi come era su iTunes ma qua in alto possiamo comunque vedere che alla fin fine insomma il colore è stato mantenuto cambio un attimino come vedete l'interfaccia di visualizzazione nulla di che tutti i miei documenti possiamo andare a vedere tutti i documenti che abbiamo sul Mac quindi ad esempio scusate se io ho in questo caso solamente delle immagini nei miei documenti nel Mac con il Magic Mouse o con il Magic Trapette possiamo andare a scorrere come vedete con questo cover flow tutti i documenti suddivisi poi in categorie airdrop è questa funzione molto molto bella e comoda che ci permette di trasferire i file da Mac a Mac solo se questi sono vicini tra loro cioè se noi abbiamo un computer o un altro Mac nelle vicinanze possiamo andare a spostare e a copiare dei file direttamente dal Finder quindi con airdrop poi vabbè abbiamo la cartella applicazioni la scrivania, i documenti, dolori, immagini, filmati e musica eccetera eccetera quindi Finder migliorato per questo motivo un'altra novità riguarda TextEdit è stata migliorata di molto questa applicazione ma qualsiasi applicazione per scrivere è stata migliorata in quanto se ad esempio andiamo a scrivere un testo e vogliamo accentare una vocale anziché andare a cliccare con la tastiera normalmente con Shift eccetera quindi se ad esempio andiamo a premuto una vocale ad esempio la A ci apparirà questa finestra dove possiamo andare a scegliere i vari accenti da mettere alla parola e cliccando sul tasto che vi ho fatto vedere scegliere i vari caratteri insomma i vari simboli anche presenti nel Mac ciò vale anche per le lettere musicale quindi se io ho una lettera maiuscola tengo premuto sempre il tasto A ed ecco che ci viene scelta la possibilità di accentuare una parola anche maiuscola oppure mettere l'indice come vedete molto comoda questa funzione per quanto riguarda questa prima recensione con Mac 6 Lion è tutto ma rimanete aggiornati con noi perché se scopriremo delle altre novità ve le mostreremo in dei prossimi video con questo è tutto ciao a tutti